La Regione torna sui suoi passi e per il momento blocca il trasferimento dei lavoratori di Iserni e Termoli che a partire dal primo aprile a seguito di due determinazioni avevano iniziato a prestare servizio a Campobasso. Dopo soli tre giorni gli stessi lavoratori da ieri mattina hanno fatto ritorno negli uffici dai quali erano stati costretti a fare le valigie. Attraverso una comunicazione interna infatti l'amministrazione regionale ha invitato i vari dirigenti di settore a soprassedere nell'immediato in ordine ad assegnazione del personale presso sedi di lavoro aventi ubicazione in comuni diversi rispetto alle sedi attualmente in essere burocratese che tradotto in linguaggio comune vuol dire che gli impiegati resteranno nei propri uffici da dove però svolgeranno i nuovi incarichi loro assegnati. La comunicazione infatti non vuole sconfessare le due precedenti determinazioni con le quali si è proceduto alla riorganizzazione degli uffici regionali. Questa riorganizzazione resta in piedi su quest'ultimo aspetto però i sindacati sono stati ricevuti dai vertici regionali e hanno chiesto maggiori garanzie in quanto tale riorganizzazione secondo le sigle sindacali non solo contribuirebbe a generare disservizi negli uffici regionali di Iserni e Termoli ma sarebbe anche controproducente in quanto questi dipendenti non sarebbero stati formati adeguatamente per tali manzioni. In attesa di decisioni definitive dunque i dipendenti di Iserni e Termoli resteranno al loro posto. Si tratta per lo più di addetti agli uffici dell'urbanistica e della protezione civile. Un caso, quello del trasferimento, sollevato da Filomena Calenda e subito dopo fatto proprio dall'assessore all'urbanistica Roberto Di Baggio che pubblicamente ha preso le distanze da un provvedimento che riguardava le sue competenze e gli uffici che fanno capo al suo assessorato, sostenendo di non saperne nulla. Alla fine Toma ha bloccato tutto congelando la situazione al 31 marzo, probabilmente in attesa di un chiarimento generale tra lo stesso governo regionale, i vari assessori e i capi dipartimento. Intanto Isernia fa festa perché tornano nel capologo Pentro anche molte delle funzioni spostate a Campobasso e che avevano sollevato le proteste di ingegneri e architetti costretti a raggiungere il capologo regionale per presentare le pratiche e ottenere i pareri.